Buonasera ai nostri telespettatori, bentornati all'appuntamento con la rubrica Il Fatto, ospite nei nostri studi, questa sera un personaggio che abbiamo imparato noi abruzzesi a conoscere più spesso negli ultimi due anni, diciamo in qualche modo a nostro e suo malgrado, perché insomma avrebbe fatto volentieri anche a meno di occuparsene, ed è il professor Liborio Stupia, buonasera professore, che è il direttore del laboratorio di genetica molecolare dell'Università d'Annunzio, che abbiamo imparato a scoprire, questo naturalmente dal punto di vista scientifico è stato anche molto utile per tutti noi, perché è stato un punto di riferimento, tuttora per fortuna con volumi di lavoro un po' più ridotti nella battaglia che abbiamo combattuto, stiamo combattendo e in parte stiamo vincendo contro la pandemia. Il professor Stupia è anche direttore delle scuole di medicina e delle scienze della salute dell'Università Gabriele d'Annunzio di Pescara e soprattutto in questa veste candidato ad essere il nuovo rettore dell'Ateneo per le elezioni che si svolgeranno il 28 febbraio. Allora, il professor Stupia, lei alterna in questi giorni, io immagino attività lavorative che non si sono mai fermate, io non so dove abbia potuto trovare qualche giorno di vacanza, di ferie negli ultimi due anni, di una struttura che è stata messa sotto stress, se c'è uno stress test quello del Covid è stato penso anche in qualche modo un esempio di studio per il suo laboratorio, ma sta affrontando anche una sfida, lei già in passato l'ha intrapresa, che è quella di una nuova candidatura alla guida dell'Ateneo. Ecco, intanto quali sono le ragioni di questa candidatura e come ci sia comunque un legame sulle esperienze vissute in prima persona negli ultimi due anni? Io ritengo che mettersi a disposizione per ricoprire un ruolo così delicato come quello direttore di un'Ateneo sia una grandissima responsabilità e che lo debbano fare persone che hanno in qualche modo l'esperienza e un pregresso che permetta loro di aver nel tempo maturato una serie di competenze che possono poi permettere una gestione. Io ho ricoperto tutti i ruoli accademici, sono stato preside, direttore di dipartimento, sono stato in consiglio di amministrazione, in senato accademico e non candidarsi sarebbe stato sottrarsi a una responsabilità. Poi è ovvio che la candidatura in ambito accademico non è una candidatura come quelle politiche, nel senso che poi non c'è un vincitore, un vinto, una maggioranza, un'opposizione. Ci sono delle proposte, in questo caso due proposte, la mia e quella dell'amico Paolo Fusero, tra cui gli elettori possono scegliere, identificare la persona che rappresenterà l'Ateneo, ma la governance è composta poi da tutto l'Ateneo stesso, dai direttori di dipartimento, dai senatori, quindi semplicemente c'è il momento in cui chi ha fatto più esperienza mette al servizio questa esperienza. Tra queste esperienze lei mi chiedeva anche il nesso con l'esperienza scientifica che apparentemente potrebbe sembrare un po' lontano, dire va bene il vostro laboratorio ha fatto analisi, ha fatto sequenziamenti, cosa c'entra con il dirigere un Ateneo, ma in realtà chiaramente il mio ruolo specifico non è stato un ruolo di laboratorio, è stato un ruolo organizzativo e devo dire che ripensando momenti peggiori del Covid, organizzare voleva dire mantenere rapporti con le istituzioni, con la regione, con l'Istituto Superiore di Sanità, con le ASL, voleva dire organizzare un flusso di analisi che ha raggiunto anche i 3600 casi al giorno, voleva dire refertare fino a 3600 analisi al giorno, voleva dire quindi avere la capacità di organizzare tutto, di procurarsi fondi, di intercettare i reagenti e credo che quell'esperienza sia stata importante, se siamo usciti fuori e direi a testa alta come università d'annunzio da quell'esperienza abbiamo imparato moltissimo e siccome noi adesso siamo in un'altra pandemia che non è quella del Covid che per fortuna si è attenuata ma è sicuramente quella economica, ancora una volta dovremmo essere in grado di mostrare che i momenti di crisi possono diventare dei momenti di crescita. Anche perché, e questo non riguarda, anche se ne è la testimonianza più visibile, il laboratorio di genetica molecolare, questi due anni hanno rappresentato davvero quello che dicevo uno stress test per il mondo universitario in generale, è cambiato tutto, la didattica a distanza laddove non era stata già potenziata, laddove era soltanto un progetto che veniva rimandato e era diventata un'emergenza. Ecco, come ha retto l'università d'annunzio a questi due anni e soprattutto quali sono stati? Tra i tanti aspetti che hanno negativamente limitato il vostro lavoro, invece lo spunto positivo, l'insegnamento di una situazione di emergenza e però, come dicono i greci, la crisi determina anche un'opportunità. L'annunzio ha risposto benissimo a tutti i livelli, secondo me su due fronti soprattutto. Il primo è quello di mettere al servizio del territorio delle competenze, che in quel caso erano ovviamente soprattutto di tipo medico, anche psicologico aggiungo, perché il problema della gestione del post-Covid è un problema tuttora molto importante. quindi da un lato il territorio si è potuto rivolgere all'università per avere risposte a delle esigenze, quindi ai laboratori, ma anche ai clinici che lavorano tuttora al policlinico. Dall'altro siamo riusciti, in questo caso l'attuale governance è riuscita molto bene a mantenere viva la didattica, che non era affatto facile, perché mettere su tutto un sistema di didattica a distanza voleva dire anche generare un carico di dati informatici, perché noi abbiamo 22 mila studenti, immaginiamo che durante le lezioni c'erano 22 mila collegamenti in atto e non è stato facile, detto questo nessun corso si è fermato, l'attività è andata avanti, abbiamo fatto anche le lauree online, poi abbiamo avuto la fermezza di dire che c'era il momento di tornare in presenza, quel momento psicologicamente è stato importantissimo, perché se lei pensa noi abbiamo immatricolato ragazzi che per due anni avevano fatto gli ultimi due anni di liceo in DAD, questi ragazzi sono stati privati in un'età importante, delicatissima della possibilità di socializzare, noi abbiamo immediatamente riaperto questa possibilità, riaprendo più in fretta possibile alle lezioni e quindi permettendo di recuperare in qualche modo questo gap che hanno avuto, poi noi abbiamo comunque due strutture belle, due strutture accoglienti che quindi permettono a questi ragazzi di trovarsi poi bene nel loro quotidiano, per cui secondo me la d'annunzio è uscita da dieci e lode dalla vicenda Covid. Peraltro sono stati anni nei quali non si è fermata nemmeno, anzi è stata incentivata in medicina, ma non soltanto in medicina perché il discorso riguarda l'università a tutto tondo, un'esperienza di collaborazioni internazionali che anzi rispetto alla ricerca, a questo nuovo fronte in particolare della medicina, del virus, ha preso parte a prestigiose collaborazioni internazionali, ha realizzato delle iniziative di cui anche lei è stato protagonista. Il ruolo internazionale dell'università oggi diventa decisivo proprio perché vengono abbattuti gli ostacoli che ci sono finora frapposti anche grazie a questa interattività che è sempre più aumentata. Guardi, anche in questo caso il Covid è un esempio. Perché c'è stata la pandemia? Perché un virus che si è sviluppato in Oriente è arrivato a una velocità impressionante, in altri tempi ci avrebbe messo mesi. Questo ci aiuta a ricordare che il mondo è diventato piccolissimo e che noi non possiamo più fare a meno di preoccuparci e di interfacciarci con il resto del mondo. L'internazionalizzazione dell'università vuol dire in questo momento una cosa un po' diversa. Qualche anno fa l'internazionalizzazione era la possibilità di mandare gli studenti a imparare delle cose che magari, per esempio, delle tecnologie che in Italia non c'erano. Adesso è una questione culturale. Andare incontro alla internazionalizzazione vuol dire intanto giocare su tavoli molto più prestigiosi, quali quello europeo, su cui tra l'altro i fondi per la ricerca, per la didattica, per gli Erasmus sono decisamente più cospicui di quello che succede in Italia. Secondo è dare la possibilità ai ragazzi nello spostarsi, nel frequentarsi di essere, nel fare da noi corsi in lingua, che è una cosa a cui io tengo molto, di aprire immediatamente il loro cervello, di essere in qualche modo pronti a una competizione che ovviamente non sarà più una competizione, non può più essere regionale, ma non sarà più neanche nazionale, sarà internazionale. Se un'università non entra in questa logica e rimane in delle logiche geopolitiche ristrette, non potrà mai essere un modello di crescita, non potrà essere un volano anche per lo stesso territorio su cui insiste. In altre parole, la sua proiettarsi su una dimensione internazionale, l'università deve proiettare un'intera regione in una dimensione internazionale, aiutarla ad attirare fondi, aiutarla a mettersi in evidenza ed è questo, credo, il grande ruolo istituzionale che l'università deve avere. Per fare questo c'è bisogno di uomini e di una tecnostruttura funzionante. Qual è il suo giudizio sull'attuale management dell'Università d'Annunzio? Come interverrà lei per potenziare anche questa capacità di interfacciamento di cui lei parla? L'attuale governance va riconosciuto in maniera assoluta che veramente traghettare un ateneo nel periodo Covid, nel periodo della grande crisi economica ed energetica è stata un'impresa titanica. Questa situazione adesso dà a noi la responsabilità di iniziare innanzitutto a fare un progetto di risparmio energetico importante, perché le spese per l'energia sono diventate un problema ed è chiaro che laddove l'università spende moltissimo, da noi si parla di milioni di Euro di spesa energetica, purtroppo sottrae queste risorse a quelle che dovrebbero essere poi le sue missioni istituzionali. Quindi ha difficoltà a finanziare la ricerca, sviluppare la didattica e via dicendo. Quindi prima cosa ridurre le spese al punto di vista energetico, dopodiché che investimenti fare? Allora gli investimenti tecnologici fortunatamente erano stati fatti prima bene, strutture come il CAST e l'ITAB sono state fondamentali, ormai sono dei punti di riferimento per la diagnostica biomedica. Bisognerà investire molto in poli didattici perché abbiamo un po' la sofferenza di aule e secondo me degli spazi per gli studenti sono fondamentali, quindi bisognerà ancora espandersi, Pescara ha bisogno di importanti lavori strutturali per realizzare bene la sua vocazione di secondo campus e quindi bisognerà lavorarci assolutamente e l'altra cosa bisognerà interfacciarsi col territorio perché io credo per esempio che non sia possibile che non si trovi un modo per mettere in collegamento le due sedi per gli studenti e per i docenti in modo agile, in realtà in linea d'aria parliamo di 15 chilometri, allora semplicemente far capire che non stiamo su due città diverse, ma è come se fossero due padiglioni della stessa università posti a una distanza che in altre grandi università sembrerebbe irrisoria, quindi per mettere un contatto per mettere una mobilità tra le due sedi e poi tra le città di Pescara e Chieti e queste sedi è un punto fondamentale, non credo che si tratti di fare investimenti enormi, ci si interfaccerà ovviamente con i comuni, con le regioni e si creerà una mobilità sostenibile, rapida, economica che quindi ridia ancora molta vitalità, deve essere una situazione molto fluida, non deve essere qualcosa di arrugginito e di stabile. Il tema della sede riguarda in particolare soprattutto Pescara e su questo io la voglio interpellare rispetto alla reale realizzabilità del progetto riguardante l'ex COFA, perché sono state notizie in passato anche preoccupanti circa le linee di finanziamento, è un progetto che lei vuole portare al traguardo da Rettore? Allora, là un progetto in cui si è avuto un finanziamento e chiaramente la prima cosa è che arrivino i soldi, perché se non arrivano i soldi non si discute e poi si discuterà delle fattibilità, io non la vedo però come un'alternativa allo sviluppo di Viale Pindaro, lì sull'ex COFA deve sorgere un centro di ricerca, poi ci saranno anche altri tipi di strutture, ma questo non toglie che esiste una progettualità già esistente rispetto allo sviluppo a Viale Pindaro, per esempio di una biblioteca, di un'espansione che vanno considerate. Il punto cruciale di tutto qual è? Sono le risorse, allora l'ex COFA le risorse se le procurate con un progetto, chiaramente se arrivano, perché è ovvio che se non arrivano, ripeto, non si può fare nulla, questa cosa di procurarsi le risorse è fondamentale, perché non basta dire a me piacerebbe fare un nuovo polo didattico a Pescara e a Chieti, sì, con quali risorse? Allora l'università deve diventare più forte nell'attrarre risorse, in che modo? Con la progettualità di ricerca, con l'attività di terza missione, per terza missione si intende banalmente servizi per il territorio, a tutti i livelli, a tutti i livelli il servizio deve potersi rivolgere, il territorio deve potersi rivolgere all'università per avere risposte alle sue esigenze e incentivando una didattica moderna che poi porta a premialità da parte del Ministero, quindi se noi aumentiamo le risorse poi diventa più semplice scegliere cosa fare e magari potenzialmente fare anche tutto. Quindi partire dai contenuti per trovare i contenitori adeguati? Sì, perché altrimenti potremmo dire tutto, io potrei voler raddoppiare il campus di Chieti e triplicare Viale Pindalo, sì, con quale risorse? Quindi il problema delle risorse è centrale e tutta l'Europa in questione del PNRR ci ha insegnato che si va a progetti, ma i progetti, questa è un'altra cosa importante, non sono più i progetti in cui il singolo ricercatore faceva il progetto sulla sua disciplina e su cui è espertissimo, sono progetti multidisciplinari in cui bisogna mettere insieme competenze ed è lì che l'Ateneo deve subentrare, nel mettere insieme magari una competenza medica, economica, psicologica, umanistica insieme in dei grandi progetti. La cabina di regia deve essere l'Ateneo per accedere a questi grossi finanziamenti che sono quelli che possono veramente svoltare la storia dell'Università. I rapporti con gli altri Atenei nel sistema di formazione regionale, c'è stata questa polemica relativa anche all'attivazione di un corso a Lanciano sostanzialmente concorrenziale con quelli già attivi presso la Danuzio e sostenuta dalla regione Abruzzo. Crede che occorra fare da parte di tutti un salto di qualità per non arrivare a queste sovrapposizioni anche perché l'offerta formativa è anche non solo quella di un Ateneo ma anche quella di un intero territorio e per questo motivo anche il rapporto con l'industria, il rapporto con la pubblica amministrazione per capire quali sono i reali fabbisogni informativi per la regione Abruzzo in generale ma anche per il sistema universitario, veramente un punto fondamentale per evitare sprechi di risorse quelli di cui stava parlando. Questo è un punto centrale perché secondo me la regione dovrà diventare cabina di regia della gestione dei corsi. C'è un fatto di cui dobbiamo prendere atto, l'Italia non è più nord-centro-sud ma fondamentalmente est-ovest, ossia la mobilità è una mobilità sulle coste, per cui questo che significa? L'adannunzio intercetta studenti in un bacino che è fondamentalmente adriatico. Se io apro un corso di studi su Chieti che pure magari è presente all'Aquila, io non do fastidio all'Aquila, lì però serve che la regione sostenga fortemente che per esempio se questa regione ha più bisogno di una certa disciplina ci investiamo anche su più sedi laddove sia chiaro che non ci andiamo in qualche modo a danneggiare vicendevolmente. Se invece si va soltanto ai veti incrociati questa regione non cresce, questa regione non cresce, dobbiamo renderci conto che parliamo di possibilità di raccogliere studenti e poi raccogliere studenti ricordiamo vuol dire non soltanto le tasse per l'università ma vuol dire anche per il territorio, vuol dire gli alloggi, vuol dire creare ricchezza per il territorio, noi dobbiamo aumentare sulla regione Abruzzo gli studenti che vengono e non fare i veti incrociati in modo tale che un'università non rubi due studenti a quell'altra, bisogna essere propositivi, quindi anche in crua secondo me bisognerà andare oltre delle visioni che stanno diventando un po' rigide probabilmente, un po' conservatrici. I servizi agli studenti, a che punto siamo e soprattutto qual è il suo programma rispetto a tutto ciò che rende attrattiva l'iscrizione all'Università Gabriele D'Annunzio per chi deve fare una scelta formativa così importante che anche una scelta di vita in una città, in un campus, in un mondo che accoglie il giovane anche al di là della sua esperienza formativa, didattica e di ricerca. Io mi sono già interfacciato con i rappresentanti della consulta degli studenti perché ritengo che oltre alle proposte di un rettore si debba ascoltare quali sono le loro esigenze e tra l'altro ho apprezzato moltissimo delle proposte che hanno un respiro veramente interessante. Allora i servizi ai studenti vanno rilanciati ma su questo ripeto ancora una volta il Covid ha fatto un reset per cui ripartiamo da zero. Cosa dobbiamo dare? Intanto sugli alloggi io ho idea che si possa creare una lista degli alloggi che sono in qualche modo etichettati dall'Annunzio, cioè che dica io ho una serie di alloggi in cui so che questi alloggi sono alloggi sicuri, sono antisismici, sono alloggi in cui tutto quanto verrà fatto non in nero e fare una lista che sia presente per esempio sul sito dell'università. Una sorta di bollino da parte dell'università che vuol dire fare una casa dello studente estesa sul territorio, ossia che noi garantiamo le migliori condizioni possibili per chi vorrà adeguarsi e che avrà il vantaggio di essere sponsorizzato all'università. Sui servizi i ragazzi mi hanno chiesto e io ho trovato d'accordissimo anche un rilancio delle loro attività nel campus, attività culturali, io ho trovato bellissima la proposta che i ragazzi facciano loro delle manifestazioni teatrali nei campus in modo tale che possano trasmettere quello che loro studiano e che diventi quindi un punto di attrattività per tutta quanta la cittadinanza poter andare a vedere queste manifestazioni. E poi mi piacerebbe molto rilanciare una cosa che per una serie di motivi a Chieti si è fermata, la possibilità che questi ragazzi facciano attività sportiva anche competitiva e che possano poi essere selezionati per fare dei campionati a livello nazionale. In tutte le università, soprattutto nel mondo anglosassone, l'aspetto sportivo è fondamentale, l'idea è che uno studente venga a Chieti non solo per la formazione che fa in aula ma anche perché la vita che si fa a Chieti Pescara, io parlo Chieti per abitudine perché lavoro là, ma è la d'annunzio, quindi uno studente venga la d'annunzio perché oltre alle lezioni gli siano offerte una serie di possibilità culturali, sociali e sportive importanti. Le strutture le abbiamo, basta farle funzionare. Per quanto riguarda invece i progetti che guardano all'Europa, questo punto anche dell'attuazione delle misure del piano nazionale di ripresa e resilienza, l'università d'annunzio è un treno in corso oppure ci sono delle situazioni, delle opportunità ancora da cogliere su quelli che sono i tempi di attuazione? Dobbiamo sviluppare di più questa cultura del progetto europeo, su questo sarà molto cruciale rafforzare il settore del personale amministrativo perché anche qui questi grandi progetti non possono essere seguiti soltanto dal docente che ha scritto il progetto perché poi hanno bisogno di una fase di rendiconto amministrativo su cui l'Europa è molto severa e necessitano un coinvolgimento del personale amministrativo. Questo settore con il personale amministrativo va supportato, tra l'altro è previsto nei progetti europei, è prevista sempre una premialità per l'amministrativo, quindi ancora una volta il progetto che arriva diventa non solo utile per l'Ateneo, non solo utile per i docenti, ma diventa utile anche dal punto di vista economico per il personale amministrativo che poi si fa carico della gestione amministrativa. Il Paese, il sistema Italia storicamente, ve lo saprà, mette in Europa molti più soldi di quanti ne riesce a riportare, ovviamente vuole dire che mancano gli interpreti capaci di andare a Bruxelles, intercettare i progetti e anche un'altra cosa, chi è che prepara i bandi dei progetti? Ci sono dei comitati in cui ci sono dei docenti, allora riuscire per l'adannunzio a trovare dei docenti che si facciano carico di entrare in questi comitati significa sapere già dall'inizio su che cosa l'Europa vuole investire, su che cosa verrà richiesto di portare dei progetti e poter lavorare prima creando delle squadre, perché ho detto che non sarà più il singolo docente, saranno docenti di varie aree e l'adannunzio dovrà pescare le sue eccellenze, metterle insieme a lavorare, dargli un forte supporto amministrativo e a quel punto andare. Ci sono degli Atenei che con il PNRR hanno preso decine di milioni di finanziamenti, c'è ancora spazio perché ci sono ancora dei progetti che usciranno, dobbiamo salire su questo treno. Lei ha in mente nel suo programma dei nuovi corsi di laurea da attivare, per quella che è anche la sua esperienza di vita quotidiana all'interno dell'Ateneo, il suo rapporto anche con gli studenti, in questo caso specifico della scuola di medicina, ma anche della fase di ascolto che sta svolgendo in questi giorni. Esiste una domanda dal territorio a cui l'Università può ancora rispondere in maniera virtuosa, con anche un'interfaccia con quelle che sono le realtà e le opportunità del mondo del lavoro? Sì, bisognerà lavorare moltissimo sul problema dei corsi 3 più 2, ossia quelli in cui sono previsti 3 anni di triennale e 2 di magistrale. Laddove noi non riusciamo a garantire un'offerta valida sulla magistrale, noi perdiamo gli studenti che magari hanno fatto la triennale di noi e poi se ne vanno. Quindi abbiamo il paradosso che li formiamo per poi necessariamente perderli. Un esempio, un corso che io tengo molto perché nella scuola, ma ce ne sono anche altri, noi abbiamo forse la migliore scuola di tecnici di laboratorio, una delle migliori d'Italia sicuramente, storicamente. Questi ragazzi che poi sono utilissimi perché lavorano nei nostri laboratori, finito il terzo anno, se vogliono continuare a prendere una laurea in biotecnologia, devono andare fuori. Quindi che succede? Che noi li perdiamo due volte, li perdiamo tra l'altro un'immagine, vedo proprio i miei ragazzi in biotecnologia, esatto. Questi sono tutti ragazzi che la magistrale hanno presa fuori e poi sono venuti da noi per le scuole di specializzazione. Quindi che significa? Li perdiamo due volte, li perdiamo come studenti e li perdiamo come forza lavoro in laboratorio. Se noi invece riuscissimo ad attivare per le triennali subito una magistrale, questo non solo i tecnici di laboratorio e non solo l'area sanitaria. Dovunque uno studente noi lo dobbiamo prendere in carico e rafforzare quello che è il placement, cioè una volta che lo studente entra deve sapere che gli creiamo un percorso che poi lo porterà ad avere un'occupazione. Quindi sulla domanda che corsi attivare la prima cosa è vedere il territorio abruzzese e poi quello nazionale, dov'è che assorbono più figure professionali? Perché se io devo creare dei corsi per poi creare dei disoccupati non sto facendo un buon lavoro allo studente. Quindi le nuove professioni bisogna vedere quali sono, qual è la richiesta. Sicuramente i biotecnologi sono ovviamente una professione che in questo momento è emergente. Quindi bisogna fare questa cosa di non perdere i triennalisti perché è veramente un peccato. Professore, ma a suo avviso, io le chiedo questa è la domanda più banale di tutte, ma è la domanda delle domande. Che cosa va ad interrompere un ciclo che dovrebbe essere virtuoso, amplificato dalle esigenze che abbiamo vissuto in questi due anni, tra la formazione medica e l'ingresso in un ospedale a lavorare come medico, ma anche come infermiere, come protagonista del sistema sanitario. Che cosa è che interrompe anche questa scelta di vita da parte dei giovani che scelgono le professioni mediche? Ma allora in realtà là c'è stata una rivoluzione negli ultimi anni col Covid, cioè il nostro governo, i governi che si sono succeduti prima, per anni non si sono posti il problema, poi di botto si sono accorti che eravamo in carenza di medici e di personale sanitario in generale. Per cui adesso siamo invece arrivati al paradosso che intanto hanno fatto diventare abilitante la laurea in medicina, che vuole dire che mentre prima è laureato in medicina, poi doveva fare un tirocinio e un esame di Stato, adesso il giorno che è laureato può esercitare la professione. Benissimo, però non ci hanno dato il tempo di modificare i nostri corsi di studio, perché non può essere chiaramente la stessa preparazione, dobbiamo fare una preparazione più pratica, ma è sempre così, a livello di governo centrale si fanno delle modifiche che poi hanno dei tempi di attuazione a livello periferico lunghissimi, perché la burocrazia cingessa. Quindi adesso che succede? Che in realtà la richiesta di medici, cioè gli specializzanti addirittura possono essere contrattualizzati prima che abbiano finito la specializzazione, ma è successo tutto in maniera terribilmente veloce, senza dare il tempo di aggiustare un pochettino il tiro. Allora ben venga che questi ragazzi trovino in occupazione subito, ma il governo centrale deve dare anche tempo alle università levandoci dei laccioli, cioè non è possibile che noi le modifiche dei corsi le dobbiamo fare otto mesi prima, bisogna entrare in un sistema più smart e questo che è fondamentale. Se ci vogliamo adeguare alle esigenze dei tempi, e il Covid ci ha insegnato moltissimo in questo, dobbiamo diventare agili. Il Covid ci ha insegnato che noi avevamo una sanità costruita sulla cronicità, di botto abbiamo avuto il problema acuto e tutto sommato questo Paese ha risposto bene, adesso che lo sappiamo che c'è questo tipo di problema dobbiamo imparare che le risposte devono essere veloci. Bene, io ringrazio il Professor Liborio Stupia, gli chiedo qual è la prima cosa che farà il primo marzo, dovesse vincere le elezioni, qual è il segno che vuole dare da nuovo Rettore? In realtà se anche diventasse nuovo Rettore la prese di servizio a giugno, quindi c'è un interregno, per cui immagino tre mesi comunque, ma io mi sono dato, immagino una sorta di timer, grosso modo i giorni di sei anni di Rettorato sono circa 2000, per come la vedo io, per come sono abituato a fare, il primo giorno è meno 2000, il secondo è già meno 1999, cioè bisogna correre e… Ma il ritmo, spassa dal ritmo di quanti tamponi al giorno? Anche fino a 3.600, quindi questa cosa non la spavento assolutamente, è impegnativa ma il Covid è stato peggio sicuramente. In questi tre mesi però si prende almeno una settimana di vacanza, grazie, grazie per questo Stupia, grazie ai nostri telespettatori, appuntamento alle prossime occasioni con la rubrica Il Fatto.